Consigliere Azzara, se oltre 3.000 insegnanti chiedono tutti gli anni di partecipare a questi corsi del CESEDI, significa che qua trovano delle competenze che probabilmente in altri centri, in altre situazioni non trovano? Diciamo che il lavoro importante che viene fatto qui al CESEDI è proprio di relazione con le scuole. Noi partiamo dalle esigenze delle scuole, quindi sentiamo le scuole Polo, sentiamo le scuole e cerchiamo di costruire una formazione apposita proprio per quelle che sono le esigenze delle insegnanti e delle scuole e questo secondo me è il segreto, avere un rapporto continuo con il territorio e con le istituzioni scolastiche dove l'insegnante si sente a casa in un certo senso ma soprattutto è sicuro di avere una formazione di qualità per cui poi le proprie competenze le può spendere con gli studenti perché ricordiamo che gli studenti sono il centro, l'obiettivo della scuola, dell'istituzione scolastica e la loro crescita è la cosa fondamentale per tutti noi. Che cosa chiedete al Ministero? Un riconoscimento, un sostegno? Allora noi intanto cerchiamo di chiedere appunto al Ministero un riconoscimento perché il lavoro del CESEDI è iniziato decenni fa e se siamo ancora stati in grado, come lo siamo oggi, di seguire tutte le trasformazioni del sistema scolastico e aiutare quindi i docenti e le scuole in questa epocale trasformazione che avverrà e lo sappiamo tutti in questi decenni, ebbene vorremmo riuscire a contribuire quindi non è tanto un riconoscimento come una medaglia ma proprio riuscire a contribuire a questo cambiamento e per questo chiediamo appunto di poter essere come ente pubblico un ente accreditato di formazione specifica e di lavorare insieme, come stiamo già facendo peraltro, con l'ufficio scolastico regionale e territoriale per costruire anche un passaggio nelle nostre scuole verso il futuro.